Amici della Polisportiva Cingoli, buonasera, bentornati a Pala Quaresima Intervista, il nostro appuntamento settimanale in cui intervistiamo i protagonisti della serie Argo De Maschile. Oggi siamo con Balint Sumoji, ciao Balint. Ciao a tutti. La sua prima intervista in italiano, dopo quasi due anni che è qui. Iniziamo subito a parlare di questa pausa, come l'avete preparato, siete stati due settimane fermi, che cosa avete fatto in questo periodo? Questa pausa è stata molto bene perché ho fatto il lavoro come sempre, ma con queste due fine settimana libero è stato bene però perché tutti hanno potuto riposare un po'. Ora vi aspetta una partita importante contro l'Alperio Amerano che poi aprirà un periodo di scontri diretti contro diretti concorrenti per la salvezza, come commenti il prossimo avversario? Questa sarà una molto difficile partita perché Amerano è una squadra molto buona, sì, lavoriamo come sempre, venite chi potuto, venite chi potuto per tifare a sabato. Facciamoti fare un saluto in ungherese ai tuoi familiari, così si sentono qui a casa. Grazie Valent, vi ricordiamo che la partita tra Makaji Cingoli e Alperio Amerano si giocherà sabato prossimo alle ore 18, buona serata a tutti. Ciao a tutti.